Umanità, acqua, solidarietà, pace, serenità e armonia. Oggi cominciamo a accenderle qui nel cuore di Napoli e poi fino all'8 dicembre in tutta la città e in tutte le municipalità. Il Natale deve attraversare tutte le strade e tutti i vicoli di Napoli. Perché questa scelta, Sindaco, quest'anno? Quest'anno c'è bisogno, mai come altri anni, di fratellanza, solidarietà e amore e lo dedichiamo anche a Parigi, a tutte le vittime della barbarie. Napoli vuole essere città dell'amore. Sindaco, a poca distanza da qui, proprio ieri si è sparato ancora, c'è un ragazzo ricoverato in ospedale in gravi condizioni che rischia la vita, in pieno giorno nessuno ha visto nulla. Ecco, perciò dicevo, amore invece che odio, fiori invece che pistole. Napoli si sta risvegliando con la cultura, con l'artigianato, col commercio, con le sue tradizioni popolari, con i suoi giovani, con la sua creatività. Questo porta lavoro, quindi basta violenza, questo vale per Parigi, vale per Napoli, basta violenza e poi chiedo allo Stato più presenze di forza e l'ordine a Napoli. Non c'è solo Giubile Expo, il nostro Expo è questo, è la nostra città. Dispiace un po' vedere sempre un trattamento differenziato tra Napoli da una parte e Roma e Milano dall'altra, non è giusto.